La palestra nelle scuole è un'aula essenziale per la crescita e la formazione dei giovani studenti e la città metropolitana di Venezia si è impegnata nella realizzazione di due impianti polifunzionali costruiti in legno, uno a Mestre, per gli studenti del liceo Bruno Franchetti e l'altro gemello a Dolo per gli allievi del distretto scolastico di via Curzio Frasio, liceo, istituto tecnico commerciale e professionale. Due palestre utili a quasi 2.000 ragazzi delle scuole, oltre alle squadre delle varie associazioni sportive. Una palestra definita innovativa sia per il criterio di costruzione, prevalentemente prefabbricato, sia per l'utilizzo dei materiali, esclusivamente legno, al di là dell'impianto di fondazione tradizionale. La palestra è capace di ospitare all'incirca 200 posti in tribuna e già tracciati tre campi di gioco per tre discipline diverse, basket, pallavolo e pallamano. La palestra ha occupato un ambito precedentemente interessato da un piccolo campo da calcio, quindi non edificata, ma inserita in un'area dove già sono presenti le altre due palestre, oggi destinate agli altri due istituti all'interno del distretto scolastico, vedi l'istituto Lazzari e vedi l'istituto Musatti, che prima condividevano una palestra in due. Un'opera importante, meravigliosa, in un contesto altrettanto significativo. Siamo nel polo delle scuole secondarie di secondo grado e una struttura come questa di eccellenza servirà oltre agli studenti e anche a tutte le nostre associazioni che vorranno qui approcciare con un bando per goderne di una disponibilità veramente unica. Il fatto che ci sia da parte di tutti un prendersi cura anche di un'opera come questa fatta all'avanguardia con tecnologie e modalità moderne implica anche un sviluppo e un contesto educativo. Questa è la società della città metropolitana e del comune di Idolo che vogliamo per costruire insieme dei buoni e dei bravi cittadini. La palestra di via Virgilio a Mestre è realizzata completamente in legno con una parte a telaio per quanto riguarda la palestra e una parte in X-Slam, cioè pareti in legno pieno per quanto riguarda il gruppo spogliatoi. È una palestra che come risultato ha quello di essere adeguata per campionati di basket di serie B Silver o C Gold e quindi prevede quattro spogliatoi per gli atleti, due spogliatoi per arbitri o insegnanti quando ci sarà l'uso scolastico della scuola, infermeria, uffici, tutto adeguato appunto per essere omologata a CONI. Siamo usciti da questi due anni e mezzo, tre anni e mezzo di pandemia e di emergenza che hanno costretto i ragazzi in qualche modo, involontariamente, a vivere meno quella che è il movimento, lo spazio e invece una struttura di questo genere dà proprio un respiro di futuro e di positività.